dai ragazzi salviamo la sanguine blade ok non vogliamo che raggiunga gli altri oggetti che sono nel valhalla vero ragazzi nell'olimpo l'olimpo degli oggetti il paradiso degli item non vogliamo che sparisca anche lei non raggiungerà loro alla maturità oh grande alla tua età va bene dai ci sta quindi sto studiando per l'esame va bene poi quando vuoi aiutarci un po' col freestyle ti chiedo dei consigli va bene quando hai finito scrivimi mi raccomando abbiamo mastery jungle senza item va bene va bene va bene possiamo vincere la 4v5 contro di loro dico di no perché hanno leona che è full tank e stun mundo che è full tank e tank tanti hp jinx col pta barrier che scelta particolare ok va bene va bene dai possiamo farcela devo solo vincere la mid devo farlo per la patria ragazzi così posso propongo di portare avanti questa petizione d'altestime tipo kirenis of eric che tra poco torna su lol e altri che ne so sì infatti avevo pensato di descrivere anche loro ovviamente che sono quelli con cioè ho visto che kirenis lo usa la song in blade perché gioca a set letality e adesso poi gli scrivo furca ciao gilles ma sei già qui ma monny ma che è successo per l'esame come stai vabbè non ti preoccupare monny stavo parlando della sanguine blade petizione bisogna firmarla brava oddio aspetta che c'è qualcuno e adesso mi hanno proposto anche di scrivere tipo altri streamer infatti io avevo pensato oggi di scrivere a rick però non avevo pensato di scrivere a kirenis ma da quel che so se non ricordo male lui gioca spesso set letality quindi penso che gli scriverò lo sucusauro di monny è arrivata qui e infatti gilles è qua quando gilles è davvero bravo monny quando non è da te viene da me che dolce gilles grazie mille stai supportando una famiglia anche tu grazie firma la petizione eh sucusauro vuole più bene a me che a te come non è vero vuole bene entrambi monny che cazzo vuol dire non è che si vuole più bene una persona che cosa vuol dire pensa alle relazioni poliamorose chi è che ama di più l'uno l'altro ho capito vabbè comunque in generale uno può voler bene a tutti e due allo stesso modo ma lei vuole più bene a me no sucusauro allora vaffanculo ma che cazzo vuol dire questa storia rap ti faccio dire quello che mi pare ah mi hanno riscattato un ciò dico ciò che vuoi ciao monny è questo ciò che vuoi e l'ha riscattato critics ciao critics ecco agri filma anche tu la petizione anche se non giochi più al lol ma ci giochi la monny è dopo un po' di danno è stato fatto Ione deve andare sotto torre poverino tra l'altro non è nemmeno cenato per fare questa petizione ragazzi avete visto che bella la grafica ringraziate codice a barre ma le grafiche belle anche per le petizioni oddio è proprio una cosa iper professional tac tac vai vai che lo spacchiamo questa torre dove è andato Ione la ruota più potente è stata riscattata grande ierniax hai fatto bene così stato in te avrei fatto la stessa cosa allora ovviamente non facciamo primo item la quell'oggetto lì ma facciamo questo oggetto qui poi sanguine blade sempre se non sorrendano prima i nemici perché in questo momento siamo due a quattro qui ok scherzavo 3-0 Jinx ma hanno Jinx Leona ma Critics ma ti ricorda qualcosa la loro botlane Jinx Leona ma siamo noi Critics ma siamo noi quattro anni fa in bronzo però la firmo poi a luglio ok va bene va bene mi parla per la partita dopo ciao cugino ciao ragazzi allora addio ciao Gilles va bene allora niente non supporto nessuno io vi amo tutti e due addirittura amore io pensavo che fosse solo voler bene qual è la differenza grazie per avermi farmato tutta la lane perché cazzo l'hai fatto perché cazzo l'hai fatto Mastery io volevo solo salvarti la sanguine blade e tu e tu mi rubi la lane mamma mia piccate staccate piccate staccate buono buono spaccata di brutto cosa pensi che io non sia me in Evelyn ma io ti smonto cazzo come le galline proprio mamma mia distrutta eh raga benissimo back e voi vi vedete il replay very nice abbiamo una relazione poliamorosa con Gino Rap non lo sapevi con chi quanti siamo poi guarda che generalmente non vado mai oltre a tre ok spamma la petizione in chat posta partita ok giusto mamma mia ragazzi tutte le volte che finite un game spammatela anche voi film the petition save the sanguine blade vai vai va benissimo ci sta grandi raga ottima idea la preferite attaccata contro il muro sta cosa oppure no che dite aspettate la fa più muovere ma che cazzo così forse così è meglio che ne dico perfetto come si riscattava ma che cosa ma perché stanno spammando così tanto la petizione che cazzo è che sta facendo in continuazione il punto esclamativo raga il bot lo fa un po' troppo forse forse è un po' troppo spammino vabbè ragazzi vi verrete taggati un pochino di volte beh 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 uh direi di andare bot lane perché quella lì quella lì sta diventando un pochino un problema gis leona ragazzi è una combo fortissima trissana solo 19 di farm ma che schifo arriva arriva gli sin arriva arriva gli sin non ti preoccupare senna sta arrivando gli sin arriva gli sin fagli qualcosa non permettergli di beccare eh sei morta fra ma che cazzo è oh ma tornatene a casa tua ma come ti permetti vado salvato ero lì che stavo controllando che mi arrivassero avuti di jinx se ero impallato così era per quello un motivo buono e adesso ragazzi indovinate che cosa andiamo a buildare questo oggetto qua sanguine blade signori miei tanta tanta roba buono buono porca pezzo di merda ma come codice che è successo pensavo che i moni ti avessi detto della nostra relazione no su mi spiace ero rimasta un'altra ragazza thanks lee no problem perché ho fatto mi ha salvato il culo ah quello ok attenzione top lane morto poi è molto bello perché può assultare mundo senza cacciarlo via con la sua passiva quindi è un vantaggio per me gli faccio anche più danno perché perde più vita per evitare il gc va bene fra lì che cosa che cosa save the sanguine blade ok ganchiamo bot forza forza ci sono ci sono sì fra vieni su di me va mamma mia questo di sim volante mamma mia ragazzi perfetto stiamo facendo un po' come mi pare nonostante questo Ione non ha ancora toccato la torre mid e io non sono mid da una vita la sanguine blade è sempre più vicina ragazzi io sto scendo che vado a prendere il gelato e fare due passi ci becchiamo dopo il coprifuoco sucusauro allora quindi se ne vai proprio dalla live così va bene ho capito allora ciao altro che relazione polinamorosa qui va bene non è ambivalente ma ok un po' indifferita ciao ricky lol buonasera è arrivato anche a te hai firmato la petizione per salvare la sanguine blade adesso vediamo quanto è forte questo oggetto ragazzi oh porca non c'è più Ione e ora mi prendo la torre poi io non ho ancora capito perché Evelyn mi aveva fatto i punti interrogativi tipo mi ha chiesto lì come per dire ma che ci fai qui ecco qua torre fatta prima torre completata ragazzi Evelyn è top andiamo a gankare anche noi mi mancano le taglie di Mundo quindi andiamo a reclamare la nostra taglia che è mia io questa volta non ti tradirò per il momento va benissimo grande Reco Weo è così che si fa un vero amico fa così non so se se l'avessi beccava eh che storia ai 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 Mundo caduto così leggendari buono 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 e adesso abbiamo la sanguine blade signori l'oggetto per cui siamo qui quindi andiamo a vedere la sua potenza la sua efficacia la sua come si chiama discernimento ecco oh lama della capacità benissimo allora cosa dà questo oggetto 50 di ad 10 letaliti 12% ruba vita 8 letaliti 48% velocità d'attacco quindi in totale da un fottio di roba ragazzi perché mi dà il 50% di velocità d'attacco a questo minuto al minuto 12 mi dà il 50% di velocità d'attacco andiamo a vedere velocità d'attacco quali altri oggetti danno 50% 25 35 25 45 solo campione distanza 40 la guinso però la guinso non mi dà anche letaliti non mi dà anche ad non mi dà anche ruba vita tutto in un solo oggetto usatela anche voi in questi giorni ragazzi aumentiamo le statistiche facciamoci sentire spada corta vampirica del discernimento esatto sarà più o meno quello il nome se fosse stato su un altro gioco facciamoci sentire aumentiamo le percentuali di utilizzo dell'oggetto porca puttana usate solo champion così in questo modo salviamo la sanguinbade il dada all'undicesimo eh sì arrivo Jinx non ti preoccupare qua c'è il Lee Sin con la lama sanguigna che vi spacca entrambi perché ovviamente ne ho ucciso uno e subito e subito mi si è riattivata ok che ragazzi un'altra cosa importante questi buff ok guardate salute da roba vita fisica non mi fa vedere altre robe però comunque sia in generale questo oggetto qua appena arrivano almeno due nemici non si disattiva subito si disattiva dopo tre secondi quindi a voi ancora per tre secondi avete il buff se siete da soli arrivano due nemici per tre secondi ragazzi tre secondi sono tanti quanti attacchi fate in tre secondi uno due tre forse di più anche ok perché ho 1.2 di attack speed 1.3 quante spell fai in quei secondi che aumenti la letality ok e poi c'è sempre ruba vita quali sono pochi gli oggetti di assassin con ruba vita c'è l'eclipse ma non la puoi buildare sempre io voglio solo farmare i minion e forse sono in pericolo va bene va bene muore muore di knight no muore di knight e te al culo peccato ragazzi non avevo la ulti guardate qua ma adesso risolviamo il problema sapete cosa compro compro gli stivali della cume di ionia della capacità dell'allievo eccoli qua 20 ability haste questo significa che avremo la ulti più spesso se l'avessi avuta prima adesso avevo già la ulti uccidevo e facevo doppia sicuro ok hanno di sotto pure la torre vendiamo le pozioni compriamoci un po' di spade lunghe letality andiamo con la letality ora andiamo di collector eh si ragazzi perché adesso vogliamo fare la nostra letality crit build e quindi facciamo il collector che ci dà più soldi ci dà altre letality e un po' di probabilità di critico così dopo facciamo altro critico e andiamo con l'essence river che ci aumenta i danni e poi andiamo con l'infinity abbiamo il 60% di critico che ci aumenta e facciamo più danno critico madonna ragazzi spacchiamo tutto sono troppi nemici ragazzi qua diventa dura ma vieni qua cazzo fra madonna mi hai fatto quasi morire cosa fa leona guardate come mi cura ragazzi guardate la mi cura guardate i miei hp guardate come sono tornato full vita sanguine blade tutta la vita lama della vita spacchiamo tutto ragazzi ma avete visto come spariscono i nemici è la sanguine blade che ci permette di fare tutte queste magie poverini questi nemici va bene capitano di sbagliare non fa niente gli errori succedono volevo fare tipo flash r ma poi non ce l'avevo ok fa niente la sanguine mica il fatto che sei che sei 13 e 2 ma come sto 13 e 2 14 e 2 come ci sto ok 3 adesso come fai sono ho questi score ok cioè io quando l'ho buildata non è che ero subito così la sanguine blade è un oggetto da prendere come secondo oggetto quando state snowballando ok ovviamente non la vado a prendere se sono 0 7 ok perché ok si può aiutare può aiutare perché ovviamente se voi vi trovate in 1v1 se siete 0 7 comunque si vi da statistiche e quindi vi aiuta nell'1v1 però al momento in cui siete 0 7 buildarla come secondo oggetto significa che la state buildando molto in là nella partita perché non avete subito i soldi per farla visto che avete fatto 0 kill si 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 leogamer lo so lo so e quindi e quindi andate a salutare QG ragazzi si andate pure a salutare andate pure a salutare Rick che vi devo dire mica mica ci sono solo io come streamer mica potete stare solo da me è normale è normale voi deciderete voi chi trova il picca meglio vero? eh? voi lo decidete voi ho capito però non vi preoccupate lo decidete voi non vi preoccupate se cosa Rick non ve le fa ragazzi mi dispiace per Rick ma sono io che gli ho portato sul lol sono io che gli ho insegnato tutto e non si batte il maestro flammato dissato distrutto va bene si ragazzi era il momento di dirlo di prendersi ciò che ci spetta ma buono perfetto quella torre sta per cadere Jinx è lì che soffre è proprio succulenta questa kill andiamo subito a farcela guardale guarda lì voglio uccidere Tristana almeno mi sento forte a uccidere gli altri di Carrie eh sì gli unici di Carrie che possono uccidere qualcuno sono gli altri di Carrie che possono uccidere gli altri di Carrie insomma avete capito guarda lì che schifo è talmente tiltata che vado a andare morendo va bene c'era ultimamente non mi stavano arrivando le notifiche delle tue live Twitch mi aveva levato la campanella festronzo Twitch grazie Vitto per averla rimessa bravo che ci hai guardato grazie mille Vitto lui sì che è un supporter controllate sempre ragazzi se io non mi vedete in live perché non c'è la notifica non sono io è Twitch io ci sono sempre ragazzi rotto rotto male anche Kate Lethality mid full Lethality op cioè sì sì infatti è quello che facciamo dopo dopo questa partita si fa Kate mid full Lethality poi vediamo se fare Lucian, Calista o cos'altro salviamo la Sanguine Blade ragazzi oddio dove è andata? ma avete visto cosa che mi ha fatto fare tutto questo danno? sarà mica la Sanguine Blade sarà mica che questo Champion vola ok ragazzi ho la Sanguine Blade e nonostante io abbia solo due item mi sto spaccando tutti perché non è che loro ne hanno tanti di meno uno e mezzo uno e mezzo uno e mezzo io semplicemente ne ho due adesso ne ho di più ok adesso ne ho tre e adesso andiamo verso il quarto addirittura quindi normale che adesso li supero li batto un pochino però comunque non è che ne abbia tanti di più ma la Sanguine Blade è talmente forte come item che è quasi un item e mezzo solo da solo doppia fatta grazie alla Sanguine Blade mi raccomando andate a votare la petizione oh bravissimo ciao Recoweo buonasera Drera ma tu Recoweo non ci sei stato mentre io ti ho detto una cosa tu ti sei perso la clip poi c'è se non c'è Onix fai la clip dove dicevo ah poi decidete voi quale streamer andate a vedere mandala qui a Recoweo così si vede cosa si è perso si vede cosa si è perso il dissing a Fieric visto che sei andato da lui porca puttana ah ok il suo stand della Sanguine effettivamente è un bel item esatto nessun altro item letardi da sta roba e se mi venite a dire che l'Eclipse lo dà andate a fanculo ragazzi perché ovviamente l'Eclipse è un oggetto mitico non potete buildarlo cioè magari volete buildare altri oggetti mitici no? stai zitta proprio calcio in faccia e vaffanculo ma non c'era anche Mundo lì hai paura Mundo ad affrontare un tizio con un HP eh? hai paura? eh sì vai curiamoci guardate quanto mi cura la Sanguine Blade ragazzi fate qua tuff 42 HP così un attacco base e l'attack speed è tanta 1.5 anche i 5 livelli sopra ti hanno aiutato ovviamente se BAMU ma come mai sono 5 livelli sopra? sarà mica perché quando eravamo solo 1 livello sopra ho preso la Sanguine Blade? tranquillo tranquillo non sono geloso non sono geloso la Sanguine Blade prima di diventare main support era il mio item preferito il mio item preferito prima della Sanguine Blade era la la danza della morte mi hanno cambiato completamente anche quell'oggetto porca puttana me li stanno cambiando tutti tutti quelli che mi piacciono a cui mi affeziono e mi sono rotti coglioni ogni volta che c'è un oggetto che mi piace che è anche un pochino fuori dal meta perché ovviamente non è un oggetto anche la vecchia danza della morte non era per niente usata quella che dava 80 di addie non quella che prima del rework degli oggetti quella ancora prima del rework della danza della morte io l'adoravo l'elmo adattivo portale a Zroth quelle non mi piacevano tante perché erano item da difesa e io sono sempre stato uno che build attacco non difesa quindi quindi l'elmo adattivo e la Zroth non le ho mai usate molto però era divertente trollare magari facendo Zroth e banner of command però quella era anche un po' tossica come build perché alla fine si usava anche molto in coupé invece questo genere di cose non vengono fatte nello alto perché giustamente uborcano meno oddio ma dove finiscono i nemici oddio cazzo culo ma ho sbagliato lì su Evelyn che non ho non ho intanto la Q però porca puttana che quadra che danni sanguin blade grazie di esistere grazie di esistere sanguin blade oggi facciamo tutta la live così ragazzi però vi state divertendo io mi sto divertendo spero vi divertete sì mi diverto io vi divertite anche voi giusto funzionava così bene bene 600 gold alla nostra infinity 60% critico potenziato del 35% i danni critici ragazzi spacchiamo tutti letality critico questo significa che loro non hanno armatura e io faccio danno critico allo stesso tempo proprio implodono come delle puttane adesso lo vedete voi la vecchia protobelt che slowava best item la vecchia protobelt anche quella era carina ma la cosa è fatta che sono questi oggetti mitici ragazzi che ne potete buildare uno solo quindi ovviamente sono molto forti però era divertente magari buildare determinate cose sì gli oggetti sono aumentati rispetto al passato perché una volta non c'erano tutti questi item più tutti questi item dato che questi ne potete utilizzare solo uno ne hanno dovuto fare un sacco però 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 si possono introdurre nuovi oggetti senza eliminarne altri riot ti insegnerò questa cosa proprio io cugino rap la firma sul petto ragazzi brava ottima strada che hai fatto adesso arrivo qua non c'è va buono anche perché è uno dei nuovi item ciao Ciro la vecchia DD era stra bella cazzo ti dava D armor magic resist life steal e una passiva da sogno io ti parlo Vitto della vecchia DD quella ancora prima di quando ti dava armature magic resist quella ancora prima io la buildavo sugli A di carry perché dava 80 DD quanto la BT cioè la lama la brama sangue ti dava quanto la brama sangue e e nessuno la usava eppure ti curava quanto la brama sangue più avevi la passiva che non morivi era hidden bro che nessuno la usava madonna santa se era forte i cc di leona ragazzi come al solito 3 secondi di stun non potevo più muovermi quindi sangue in blade o meno ma la kill è andata a gold reset leona 1000 gold su di lei quindi va benissimo e adesso abbiamo la nostra infinity giustamente leona non possiamo fightarla non possiamo lanciarci sul tank perché è troppo tank ed è troppo stunnante leona merda proprio build full DD non sto memando sì sì la DD era bellissima quando si potevano comprare più vecchi item insieme tipo 3 infinity era una figata però va bene col cc di leona si è stunnato per le prossime 4 partite sì i cc counterano la sangue in blade i cc di leona no ragazzi i cc di leona counterano qualsiasi cosa leona funziona proprio così ma noi lo sappiamo e quindi adesso eviteremo di ingaggiare su di lei volevo provare a vedere se riuscivo a farle danno per attestare vai vai il mio team fa cacare il mio team fa schifo sì ragazzi è proprio quello che voglio bravi bravi continuate a fare schifo che così io faccio kill mi diverto e faccio vedere quanto è forte la sangue in blade oh abbiamo full build ragazzi quasi full build questo oggetto possiamo venderlo per qualcosa di più utile sì sicuramente possiamo venderlo per questo per il serilda e così abbiamo comunque eventi di ability haste abbiamo AD abbiamo penetrazione armatura e loro hanno due tank ricordiamo questo è un bel problema per noi uh l'ho presa flasha flasha che io ti volo lo stesso in faccia bam proprio distrutta ma che danni ma che calci ma che pugni ma è lì sin full letality ragazzi guardate qua 1100 di danno ma com'è possibile tutto ciò ah trasparano tra 5 secondi quella a fare va bene mettiamo in push questa wave tac già così dovrebbe bastare via leone a mid insieme a mundo ok due tank girano insieme giustamente un calcio così 932 di danno mamma mia che belli sin ragazzi leone l'ala lasciamo là mundo lo possiamo shottare da solo quello era il tank quello era l'ad carry quello era il mid laner oh mio dio ragazzi ma muoiono tutti e qualcun altro ma dov'è oh ma qua c'è eh vabbè questa qua non l'ammazziamo ragazzi non facilmente quanto quanto il tank guà guà sì sì fammi stare più fermo fra madonna santa ti arrivo addosso proprio vengo sopra dopo tutto come mi chiamo eh oh oh porca sembra in situazione pericolosa no lo decido io se sono in pericolo hai capito Evelyn bene vaffanculo ecco questo è il potere della sanguine blade che prestazioni ok avete capito bene non è per 12.000 punti però va benissimo oh very very nice save the sanguine blade giusto 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 dov'è 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 potete chiamare tipo petizione oh ho scritto petizione dai cazzo dammi sto link guys save the sanguine blade come si dice sign the petition dai che ce la facciamo thank you for the honors we can still save the item dai ok buoni danni ottime cose mi è piaciuto moltissimo queste clip finalissime belle belline belline ok ok